Si chiama Sanjai Shah, pensate che è un CEO di una società che si chiama Vistex Asia e pensate che c'è stata una festa dove costui si è letteralmente calato sul palco di questa festa aziendale, cioè dell'azienda in questione da una gabbia di ferro alta alla bellezza di circa 5 metri. La catena però purtroppo per lui si è andata a staccare e l'uomo purtroppo è morto. Il video della sua caduta ovviamente è diventato virale sul web e ha avuto un ego mediatico pazzesco, no? E ha veramente dell'incredibile, va bene? Non si aspettava l'uomo di fare questa fine, altrimenti non si sarebbe mai calato. Sta di fatto che però purtroppo per lui è morto, è morto sul colpo. Non ce l'ha fatta. Va bene? Grazie a tutti carissimi e simi utenti di Youtube per la visione e per l'ascolto di questo video di oggi. Sanjai Shah, che tu possa riposare in pace. Amen.